Quanto c'è solo? Gianni c'è Ma è un po' di 4 1 1 1 2 3 Allora Paruta assorta Schifoso Eh? C'è, sei schifo Carica Su, su Non te l'ho incoglionato il live Sei l'incoglionato oggi? No, avevamo già il live Eh Non sento, va Per fortuna Ma, ma quando non ce la facciamo la live? Fino a, buh, alle 1 Un'intera bruciata Da tua nonna ha detto Passa, passa, passa Passa Un'intera bruciata Minchia Un'intera bruciata Insomma La sua l'hai fatta L'intera bruciata Sì, ma molti lo facciamo perché devono raggiungere l'obiettivo Capito? Emo, questo qua c'ha Semiglionato Quasi ti lo seguo è quasi tre ore stamattina poi oggi facciamo dalle 2 alle 6 facciamo solo 9 ore oggi domenica scosta mi fanno dici iscritti è uscito che bello che è bellissimo è tipo bellissimo c'è che figa la cosa no non ha ragione ma lei è fantastica se ti può non donna bravo non fai ancora sbagliato si è veramente ammazzato il gioco la parte con un amico ecco che se cazzo se cazzo non mi sono hai fatto una tranquilla va tanto non arrivi neanche al 89 che manca uno bastardo fate un po' di livelli che arrivi al 2 e poi questo qua ci arrivi al 89 arrivi di andare male e dei morti poco si trova che la batteria è sempre a caricare cazzo no ti può sempre caricare di lasciarle che figata questa non mi hai visto io li odio random le schiene ok posso capire la schiene ok posso capire la schiene ok ti senti si basta basta è qua è qua è qua è qua è qua senti io ho preso del giorno no ma sono abbobbio dai 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 fai la palla che ti segue mi dai il singolo io mi devo andare alla pigione mi dici oh oh mi senti mi senti mi prendo il cellulare della casa i ho me mi senti le le me Grazie. Oh, Piero, va bene qua. Mi ribanda questa cosa. Questa? 20 giga per gara. No, no, non molla. Ma dovevi cambiare? È un po' casuale ormai. Non c'è un problema adesso. Dovrei fare così ormai. Ok, il cavo ti chiede. Non è bene. Dai! Piano, fare così. Cosa ho sbagliato io qua? E lui che vuole male? Lo facciamo adesso. Allora, dovevo mettere sistematimino questo. Comand. Devi andare a sbardare, vero? Lo so. E dopo di genere. Aspetta che non mangio, dobbiamo più. Allora, command. Default. Ah, command. Andes. Eh, enable. Commercio, sì. Scusate. 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 Dai, giocati che perdere il tempo su Instagram. Abbiamo finito. Mmm. chnotati che per piacere il tempo. No, non l'abbiamo, l'abbiamo. E poi ciò che noi, non l'abbiamo. Non, essere che ciò che ciò di cerchio è volto. No, non l'abbiamo. ah l'avevi vista, oh che puro ce l'avevo la balia, non lo facciamo che fallee dimmi ah, ok, aspetti, ci arrangiamo, dai a martedì allora in teoria, a martedì mi senti? bella maubichon bella zio, bella bro, benvenuto in live, ti ringraziamo si, se vuoi giocare xbox o pc, siamo qui bella zio se vuoi entrare con noi a giocare se vuoi giocare con noi siamo tutti, siamo tutti pronti per giocare con ragazzi questa domenica mattina perché fa così? bella è già due so di bomber, benvenuto in live benvenuto anche per te se vuoi giocare con noi xbox play pc cerca e vieni con noi a giocare bella zio grazie a tutti buona domenica ragazzi non posso ancora urlare perché la voce è ancora un po' sgangherata ohioi ragazzi grazie grazie incominciamo bene la domenica con un vostro saluto con la vostra iscrizione bella la voce non torna? e beh poliziere ci mettiamo per appanarmi le cose vocali per appanarmi le cose vocali e beh il mio lavoro è stato un po' 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 bella ragazzi bella bella ragazzi let's go andiamo andiamo let's get it andiamo a prenderlo se stai fravo questo cazzo di gioia per gli fare un grande favore non che uno farà anche così indietro io canto let's get it oh mi piace tutta di muovermi ma poi c'è stata cosa a dire lei senti io chiedo ma no io abbattavo anche con me perché c'è un po' la domenica è carica come follower è carica questo è un po' la o come subscribe godiamo ragazzi godiamo ragazzi godiamo ragazzi godiamo insieme bella zio è morto mi spalla mi hai un po' mi hai non li dietro dai ma dai zio dai zio mi sento se ne parti ti ho fatto da me va no ragazzi perché vuole cioè mi becca le ossa e si fa male ragazzi beh metto conto quanto è l'incoglionito ho schifoso ti leghi e mi dia a me si mi fanno flamenca male ma esci qui esci già ne è uscito a posto vero è uscito è uscito è uscito è uscito dai ragazzi su un po' veniva sta piangendo ma perché non lo facendo entrare dai ragazzi che piangono solo è un bimbo minca di merda avete pazienza ragazzi avevo visto pink asprimano che parte la argo gay è uscito è uscito è uscito è uscito e è uscito è uscito è uscito stai imprecando bella ciccio grande oh yeah let's go boys ti ringrazio davvero tanto ti ringrazio sei un grande bella zio bella e che succede quest'oggi grandi fratelli siamo tutti e ci sei bacato anche oh yeah grande bro grande bro bella bella iscriviti anche al canale fai un bel follow campione perchè ti vogliamo dentro in questa casa di pazzi ciao pinkas bella zio bene ragazzi ho chiesto niente e lui si è buttato dentro perchè è un mito è un mito è un grande grazie ciccio grazie pinkas anche tu ormai c'è la mia spalla spalla sinistra andi raga adesso vogliamo vogliamo che tintaneo si iscriva al canale lo vogliamo dentro se vuoi no ciccio guarda il tuo io lo infilo ma non voglio essere infilato con tanto di rispetto non voglio essere infilato no 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 bella questa domenica ragazzi si inizia bene due iscritti un abbonato ragazzi ma stiamo scherzando let's go un scoglionato che non ce la mi dici ragazzi andate a giocare con ciccio bello in grassia qua con ciccio pasticcio eh ma me lo immaginavo che ce l'hai stai godendo pinkas dimmi che stai godendo dimmi che stai godendo ciccio bello dimmi dimmi un po' per il pane te l'ho detto? un po' il pane ah come viene come viene un po' per meglio dai vieni come registra? bene bello beato beato ma hai fatto live per caso? no non mi è arrivato il messaggio a me ragazzi non tutti spettatori bella bro bella zio bella fra bella ma ahimè ahimè dai ragazzi su che vi vogliamo a stecca mettiamo in questo canale mi sta dando soddisfazione ragazzi grazie a voi nuovi iscritti italiani americani nuove abbonamenti donazione veramente ragazzi mi danno soddisfazione ho installato il programma delle live ma devo ah ok pink sono ok questo le sequole lo sapevamo tutti e se questa mattina mi fa sentire bene oh no è figo eh oh yeah vuol dire che mi apprezzate ragazzi mi apprezzate figa figa ma poi figa capito figa non fia dio cane vediamo da roba qua comunque un caldo questo non sarà di entrare a prenderti le cose senza come dire ma entro così perché tanto a casa mia questo che c'è usci il dono la sua l'hai visto l'inchiato ma secondo te ma si è ma proprio volentieri ti può un piacento la 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 come corre come un bastardo belle le case sono su spazionaria bella zio zio bestemmio dove lanciate lanciatati scusatemi ragazzi vabbè da pazienza bene bella bella dai ragazzi vogliamo il live con noi a giocare su è tutto gratis se non si paga per giocare ci si scrive e si entra ragazzi tutto gratis la 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 coglione salta 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 sta mica quanto saltava bene è un coglione forte questo lo shield che vi serve comunque avete visto che Tintino e Pincast sono 150.000 minuti l'ho visto l'altro giorno grazie Pincast Tintino si è scritto gratuitamente ad Amazon Prime per cui potete farlo seguire il suo il suo gesto è gratuito per voi ragazzi per 3 ragioni mi abbonate al canale a me ha fatto un gustissimo supporto e voi siete comunque dei abbonate al mio canale ed è una cosa che a me fa molto piacere salta 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 salvo salto salta 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 di munchia nio sai cosa è Pincast? tanto quando prenderò la partner su youtube o mi metto a tornare a fare live lì perché se no è inutile fare ok pinkas bella zio grazie o vado a fare anche detto ho fatto un paio di minuti nella tour nelle tue cose anche scritto un paio di minuti potete dire o vado a fare live anche lì perché se no non c'è tanto capito se non noto che non c'è più il giro come prima ormai se non fai live su youtube o se non hai i lecchini dietro non sai un cazzo ma sto qui guarda più soddisfazioni anche oggi c'è anche stamattina soddisfazione ragazzi soddisfazione non ci sparavo ma veramente grazie grazie raga siete mitici cazzo gli utenti di twitch sono superiori live le fai da tutti questo sì ma di sì ok dovevi farla due due sì quando aveva fatto è una parte due prova magari a terminarsi a un po ringrazio da sempre minuti capito metti che vedrà un paio di mille minuti duemila minuti al giorno con calma ci arrivi capito ma io vorrei arrivare alla parte nel passo twitch è più difficile non ho l'affidazione niente di far abbonare al canale le persone sì sì che c'è la parte buona 1 2 3 media abbiamo trovato un sito per fare i tuoi social però seguirlo è dura capito che comunque la live di Twitch è aperta la live di youtube rischi di sballare vediamo un po come va se riusciamo a prendere un pc nuovo e spaccare lo so grazie pinca stiamo no a parte lo sai pinca stieri che tu non c'eri un ragazzino è entrato qui in live no e mi ha detto ciao e io ciao se vuoi fare il piacere di iscriverti poi giochi con noi no e abbiamo xbox e anche io xbox grazie mille ci cerca gioca vi dicendo no e poi dopo fa il maco va via e lui che le fa guarda l'unico streamer che mi ha considerato mi ha salutato e mi ha invitato subito a giocare senza chiedere niente ciao compare l'ha finito Luca Gorano lui non ancora sta finendo tu compare l'hai finito il pass lui è 86 Luca l'ha già finito a 100 tu quanto sei e questo ragazzo fa oh grazie perché comunque ho giocato con voi sono divertito poi cominci tu sei simpatico e siete simpatici e l'abbiamo buono 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 compa e mo anche tu omega omega stecca c'è la skin bella oggi cazzo ma non posso comprare ragazzi dovrebbe essere comprata volentieri mi piace molto tipo omen ma la donna è fantastica si è abbastanza incredibile cazzo è bravo questo qua è bravo si tu hai fatto vincere ha sparato si sono cose belle comunque vedi io come tu sai tu sai che anche se non sei tu a salutarti noi salutiamo invitiamo a giocare e via bra appunto e via dicendo no è stato qua ha proprio apprezzato questo modo di fare ed è rimasto quando figo figo certo bloccati compare entra ti va di fare qualche partita devi fare qualche parte da compare dai ci aspettiamo sì sì no no hai ragione ragione io guarda ieri stavo guardando qualche personaggio dopo un po annoia se pensi così c'è che cazzo fa gioca non non parla non non parla non con un collabora mentre non parla mi senti non ti senti da quando ho fatto l'aggiornamento ma quando ho fatto l'aggiornamento non riesco più a parlare partiti di gioco però partiti di gioco ha fatto il tuo gruppo dove da solo mi fai partiti un po' si sa te lo fai così partiti di gioco beh compare non è che qua compare ma è qui per caso che se sta sbagliando per certo ma è attivata si questa forza no parti di gioco dove cazzo è ah quello sicuramente è noioso molto 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 vai in buon voce certo boccale sì su xbox su xbox non qua si 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 allora come abbasso questi eh perchè sono prova l'altro 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 prova l'altro no su xbox ti va andare la ragione lui vai no devo andare prova su in impostazioni no qua no no sbattata ehm cosa allora fai il gruppo fai il gruppo fai il gruppo avvia avete il gruppo da solo avete un gruppo bravo ok fai ehm c'è ti con voi c'è ti gioco vai prova ah ah finalmente mi senti? ah aspetta ehm ma io lo sento lui aspetta un attimino ah mi senti? posso parlare? eh io sia? si ehm ma io lo sento qua ehm ma io lo sento qua ehm ma io lo sento qua ehm ma è brutto togli la cuffia ehm ma non lo sento qua non lo sento qua senti qua eh oddio ma fai parla parla si si parla eh eh così prova adesso a parlare ah non lo senti qua dai senti qua non me lo senti non me lo senti meglio che niente meglio che niente vai non funzionava prima vabbè poi continuiamo vai mi ricordo che lo controlliamo prima di tra una live e l'altra bella bella oh sei contento a noi su colpi giocare? no che hai detto parli parli lui ti sentono eh ma io non lo sento parla da qui lui eh ma è brutto parla da lì meglio che niente hai qualcosa che senti scemo non è perché uno si tipo auto parlando quelle cose lì magari no 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 però mi ti sentivo mi sembra che ma quali senti? ehm secondo me è colpa di colpi con me no perché se entrami fixbox li senti e la distruendo oh la pingas che è contento c'è ragazzo dove andiamo? è uguale è uguale no è un po' a parco è un po' a parco io colpezza una donna che la so oddio costruttore eh non tirava molto ti tirava molto ti fermo ti tiri vai non ti tiro la testa un giorno ti puoi aprire i capelli ti faccio la fotografia nel muro senza spaccare matita sicuro? si ti puoi fare ti dici? un corpo mi basta volevo mandarti la tua sezione troppo lunga io ho tratto nero il messager è lungo su whatsapp è un po' più pesante ma come sembra si vede bene cioè alla fine ciò che tu vedi quello che dai giusto o ti aumenta anche la qualità per media si si vabbè anche il messager non ce la fai intanto whatsapp si ovviamente trovo la più solida ahhh la lupo che sento adesso sta parlando? puoi parlare? parla a ria un attimo ahhh no allora non lo sento qua però sento le cose ok non abbiamo guardato bene oggi c'è la giustizia ok 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 sono curioso cosa sta? sono molto curioso sono molto curioso perchè veramente e come andata il giro a milano bello finca si è divertito? ehhh i cinesi? i cinesi? e vanno già i cinesi vanno andare con la terra c'è tutte le munizioni oddio bellissimo vero vabbè un po' di svago di spasso di relax c'è a zero vai per il luto vai per il luto vai per il luto bella bella lascia mia o quel luce no ci è servito da qualche parte capito? è fatto bene è fatto solo bene ria ria per terra aspetta è dietro è dietro è dietro no non c'è di qua vai per la real ho più pompa che serve aspetta aspetta la c'è lo scarpe real dai qua dentro vai vai bella bella il bambino faceva il cazzo che voleva vabbè se vuoi ce lo scar li eh fatto bene ha fatto bene occhio a morto tu Michael si 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 colpi colpi sta salendo qui 2 2 4 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 13 15 19 15 15 14 15 15 15 15 come va in partita 33 siamo minchia guardo a tui bastardo dai ragazzi su su entriamo divertiamoci e giochiamo vediamo un po come si vede in partita chi vuole essere un bravo ragazzo segua l'esempio di stintino è bene si vede si vede un modo qualità e non è male tu puoi scrivere non si vede bene ma al tuo cazzo non si vede bastardo stiamo andando a poco bitrate capito per non laggare non posso lascio il tuo bs ma non si vede male avvisami quando è pronta finca sai che dopo vado a vedere come le cose come metto a distrazione tutto viola hai visto non chiede il culo ecco quello verde è per tutto viola cazzo che cazzo andano di male no non è pensato non sei scemo prima la pizzeratua ma come fluido puoi giocare tranquillo no dai dai tu puoi alzare la qualità qui e peggioriamo capito non è peggiori per il cavo etna che non... no ma vedi qua l'aga puoi proviamo rischio sì ma un po si regge la alta non so se va via o no chi? è real dove è real? ma dov'è? ah ahia real qua mi era perfetta ma qua ma non è che non viene real è real per voi ok ok ma così non dà problemi e' tanto fa qualcosa di pixelino lo sai eh si adesso è la scheda video ma cosa faccio ma ha detto che voglio bloccare con il sacco più perché non lo so ogni moto cosa faccio non parla real stiamo dicendo una seconda venina dov'è? no non parla è bloccato no no se non parla real non posso sentirlo come mai? non parla non ti sento no non ti sento ma è proprio strano io sto parlando non ti sentiamo lo sai? non ti sentiamo che strano secondo me è come gli si è staccato il gesto che ha Michael sei pelato? no guarda aspetta vedi non so un pelato come sempre finca sempre pelato come il pisilino del gufo ascolta ho chiesto di cazzo ma non così piccola come il suo non ce l'ho pelato provo un pochettino adesso sentire Ria perché lui sta parlando sta parlando come faccio se tu sta parlando video messo ok parla Ria no funziona ma qua non lo sento secondo me in questo seno non lo parlavo con armi quindi no eh dove c'è la youtube Michael? che cazzo c'è la youtube o al codisco? guarda nintendo classico ok codisco parlo piccolo allora pinca nintendo classic prova registrazione senza tagli andiamo ragazzi a fai sti ragazzi è la qualità come stai giocando minchia cosa stai giocando che gioco brutto è? donkey kong la qualità ma la conosco ma qua la conosco donkey kong cosa stai giocando manda avanti faccio una e faccio si 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 sennò sono una partita sono ah non ho più l'auto perché cazzo però mica che bello cazzo bello lo senti Rial parla è proprio che mi sono bello posso parla si sono dispesi bene amica veramente pinkas veramente veramente spesi bene grande lo fai tu vero io gli spendi male i soldi bello devo copermi un gioco grande pinkas i soldi li spendo per giocare per cazzate mi è arrivata un'iscrizione qua che qui non mi ah eccola qui martigiovi benvenuto tra i passi bella bro benvenuto se vuoi giocare marty xbox one pc basta che ce lo dici entri e giochiamo cici bella zio si pinkas soldi spesi bene mi facerà anche piacere guardarlo veramente una bella qualità veramente bello 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 tu streami così bella marty benvenuti benvenuti ragazzi perché laggi perché laggi non hai questi piccoli laghi ragazzi non voglio il cazzo bella e abbiamo già pinkas è il quarto iscritto oggi stamattina più ho avuto già un abbonamento stamattina diamo con prime bella bella una domenica è tutto davvero bene minchia domenica se tu vi ci si spacca cazzo ragazzi bella 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 non vi sentite non vi sentite bella 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 oggi provo colcomo 64 si si fai fai pinkas questo quel video che hai messo su youtube carichelo su twitch anche perché non lo carichi nei tuoi video così così aumenti anche le cose carichelo su twitch o il video nella sinistra giù in chi bella questa mi è piaciuta bella questa mi è piaciuta davvero dai ragazzi let's go 200 follower let's go let's go questa è una prova una partita carico si 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 fai fai carica anche su twitch minchia veramente bello cazzo mamma mia cioè devo ritirare la ps3 giochi out ok ok e poi puoi anche strimare con ps3 e se vi consiglio se non ce l'hai perché siete gta streamalo qua online e online cioè aspetta nella ps2 se la gta su ps3 streamalo streamalo pinca stato consiglio qua in live sicuro che c'è di lavoro ancora la c'è vabbè 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 tira un po' dita 4 si acqua 5 c'è 5 adesso ma può iniziare a firmare con la lata col 4 cambiamo cazzo la cazzo la 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 è un abbo è un abbo è un abbo sono qua ok oh bravo bravo dai 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 adesso ricomincio il gioco devi se ti tocca pinca asso aspettare aver media morte tocca muovere il culo eh si morte tocca pinca bene ragazzi mi piace e ti scrivo anche a me bene ragazzi comunque tutti in live iniziamo questo si è vero il lobby lo senti in gioco no no dai qui lo senti in gioco no anche a capire perché cercate di capirvi in mappa io voglio un po' come si muove bene dai muoviti musica random tranquilli non ce l'ho con te io stai tranquillo come tu così musica parte random com ci mettiamo in gioco e partiamo lasciati santi dopo di spedernone ha detto da noi diventare vero santi santi scemo più scemo è morta e più morta non lo so serve oh vengono il mouse non ti azzerdare eh lo cammino ah pincast ieri ho fatto una spesa estrema ho speso 3 euro per il mouse 7 tasti luminoso e le ho comprato le batterie a sti due elementi dell'Xbox ho preso mouse 7 tasti quanto quasi era quanti il dpi cosa ha 20.000 12.000 dpi 3 avevo pagato da wish comunque quando arriverà il mio mouse spio che sia bello dice che dovrebbe ma cambia colore cambia colore si è varicolore poi lo guarderemo con me sto grande mouse se trovo con i figli ti lo invio io eh pincast tranquillo eh stai sereno volevo la webcam nuova ma non voglio ancora trappola non voglio ancora spendere molti soldi dopo un po magari aspetto per un pc diamo un pochettino trappola non l'ho beccato no fate ammazzare fate ammazzare fate ammazzare non è una bella vintor fate ammazzare faccio bastardo eh si vede tranquillo quindi non può preoccuparti guarda tranquillo vuoi che non mi sentito la web almeno la vorrei in full hd dalle 60 80 euro su wish dalle 40 a parte però sai non mi posso fidare più di tanto ma con calma cercherò e poi pian piano con il fronone per il pc che è R mi ha guardato tutti i cosi ma la mia paura è che non sono buono a programmarmi l'ho capito dovevo giocare nel bios non sono mai sono andato qualche volta nel bios ma a fare fesseria poi appena va a terra alba a fare solo preventivo l'ho riaperto ce lo cuono fuori la trappola c'è chi l'ha messa la la bomb guarda ho granate vero in che in piano sto dato guarda 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 qua vedi questo qua guarda ma giallo sono ok esco e niente ok prova prova se tratti così le nuove cuffie ah poi lui gli ha regalato le cuffie nuove Luca se le prese lo zio oh mi senti è spento il tuo gioco cavoletto di cazzo il tuo gioco si è spento eh no si si parla vediamo la tua il tuo microfono facciamo fare il suono ma non ci sentiamo capisco come mai sto problema for cioè toccare al massimo mh mh fai felice mi chiamato dai polica non so come passare più più better no Tu o mio, tu, chi è? E fai gioco prima, fai il gruppo, metti i lasciati gioco e poi gli scelta il gruppo. Prova che magari come tu hai attaccato il joypad che si è bugato il joystick. Ok, no, 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 non parlo, guarda, il joy si è bugato però, ah certi gioco, fai il gruppo, vai certi gioco, mi sento se ti devo, mi mando, è il nuovo aggiornamento, cazzo ho fatto, mi senti? No, no, sta parlando, vedi, non muove neanche la cosa, vai certi gioco, ripassa, eh, ma vai pazienza, perché senza parlare è brutto, minzi, eh, ma, eh, la colpa di quella è l'aggiornamento brutto, guarda, è già fatto gioco, no, di gioco vai, ok, basta così, esci, ma come prima sono, no, prima c'è di gruppo eri, no, c'è di gioco ero, e poi senti che ho fatto, è un chat di gioco, è un chat di gioco, dai, 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 è un chat di gioco, volevo�ve lo domestico, non mi sapevamo, ma l'hai fatta, guarda, vedi passa chat di gruppo passa dio cane non può solo io caccia di gioco parlare con altri adesso dell'xbox e padre a tutti gioco dovessi parlare con me e mettere in bocca dice la segua dentro il palisto cazzo parli in camion incognito del genere o ma la volete cazzo che ve lo regalo volta puttana uno poi si più minchione di questo ho guardato schifoso bastardo adesso non posso parlare invitano 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 provi della barina vai ok adesso volendo non posso parlare anche con luca altri perché non fa come consiglio spegni gioia il potere avvielo no no stacca la corrente spegnilo dio cane è diverso e sarebbe stato uguale no 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 cazzo no finta con te rincoglionito ma cazzo ma donatemi che lo chiedi una struttura privata almeno si è spento guarda ragazzi sapete che lo bullizzo donatemi 50 euro che lo bullizzo gratis no rompere no ma eravamo lì vicino a farti male 3 2 al centro e lo fai in diretta dai pinkas vai dai pinkas ci si sangue sangue ossarote vai pinkas che io quando sento dolore di soli di prodotto cosa devo farti male cosa vuoi non ce lo pesterei a sangue veramente anche gratis cazzo anche gratis io non ho passi tutto quello qua sta giocando da solo c'è andato guarda un po' di te con due e tre e quattro di un canarino una stagione hai cinque amici, chi hai? non di Epic c'è anche Marco 6S c'è un po' che mi fa più male? cosa mi fa male molto? si che so io ho detto pulire la porta l'altro giorno mi fa male ancora dai qua l'hai dato finchia horror eh fai horror con lui, ne faccio una ragazzi andiamo no squadre solo con due squadre solo? riempi coglione io sono ninja lo so no purtroppo è un bimbo minchia di merda purtroppo lui è un bimbo bastard non ci fa un cazzo qua facciamo una partitina ragazzi tiriamo fuori tiriamo fuori il nabbo che c'è in me no 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 pinnacoli no andiamo a Acri 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 lo sento qua lo sento io minca l'uomo mi ha fatto spaventare un codisco finché ho fatto un salto finché l'ho fatto un salto così finché mi sono cagato le mutande si si per l'altro si è nascosto proprio mi hai scappato guardavano ammazzarmi tranquillamente mi sono cagato ragazzi mi sono cagato addosso dovete iscrivervi al vostro canale non so perché mi cagano addosso non per altro minchia l'uomo a mille io ho avuto un infarto puttana troia sentivo sti cazzo di passi no minchia oh jacopino bella benvenuto in live bella zio se vuoi giocare con noi xbox o pc siamo sei ben accetto bella zio bella bro let's go dove cazzo andiamo porco disco qua ma cosa mi interessiamo dove cazzo vanno a pinnacoli eeeh no no vado vado io in due andiamo minchia guarda una squadra di merda e cammina porca puttana in tre siamo è affinato un ballato no l'altro viene con noi lo dico io a marolla viene bene ragazzi se vado a vedere un altro se vado ad andare a vedere un altro un'altra cagata addosso un altro infarto chiamo 318 prima di vedere i salti amore mi preoccupi se la tua se ti cagli addosso fino a sei anni io cambio due volte no ma guarda pinkas ah stri strippi ah si oggi è il tuo compleanno e scoprano ciao ciao bella auguri eh è il tuo compleanno oggi? è morto adesso fra un po' ma che gioca con te eh tra cui ne faccio una veloce poi piacciono giocare a voi sei più bravi di me si senti si senti si senti mi sente? no non mi sente? bella bella aspetta aspetta sono andato sono dentro non posso toccare niente si si quando mi sente? e invetalo tu dopo no perché tu ti senti tippo ok tu no no faccio faccio me mi senti mi senti faccio beh me guarda adesso Aspetta, aspetta, c'è gente, non posso venire. Oh mio Dio, per costruire? Oh mio Dio, per costruire! Pagodio piano, per costruire, figa! E' imbolato. E' un piano, ragazzi. Non lo so, che non lo sentivo, Pincas. Non lo sentivo, cazzo. C'è qualcosa che non va nella chat qui, adesso dopo lo invitiamo. Alca puttana. Io non ho capito, sai cosa? Non voglio che magari... No, l'ho passata, per non disturbarti. Per messa media. Adesso dobbiamo... Ma secondo me è proprio rifare i gruppi, rifare la felicità, hai capito? Ma cazzo sei, morco, disco? E' balla. Ma cazzo balli? La prima squadra che ti prende... Ti fa male? Mh? La prima squadra che ti prende... Sì. Ti fa male. Molto. Tolti! Come l'ho detto? C'è la idea non andiamo a andare? E mi ammazzano, 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 mi ammazzano e mi ammazzano. vaffanculo salvo l'altro e muoio io invita pg strippi sono batterie sono bravo bravo non dovrebbero essere al massimo dalle 6 shell ragazzi stanno seduti dalle 6 shell shell è un marco di benzina 1,2,3,4,5,6 non 6 shell va bene anche finito di niente scusa che non uscirevo ad entrare oggi 1,2,3,4,5 iscritti quest'oggi la domenica veramente non sballo ragazzi la domenica non sballo ma perché non puoi parlare? no 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 vava? non mi faccio parlare ho fatto qualcosa tu hai fatto qualcosa faccio anche tutto prova 0 a quello vai prova adesso prova vabbè 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 non sto parlando non sto parlando vi aprile xbox dai provare via la dai si 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 un attimino ragazzi stacca di attacca e anche lo stacca di attacca della corrente ti baga tutto capito un attimino arriviamo gli xbox ragazzi pochi oggi eh oggi oggi tranquillo ci siamo tutti nel mare stavano se ne vanno al mare bravi ragazzi bravi ragazzi allora un attimino abbiamo andato un salto con Michael ma è da vista di portare mamma non mi preoccuparti Grazie a tutti Grazie a tutti No il cuoricino Ah bello ciccio bello Purtroppo io sono in ritardo con i spettatori Ne vedo meno Magari ce n'è di più Però come va? Parli? Si da se parli Eh se l'ho bagato all'Xbox Che mi sto costritti anche Vabbè se vuoi così Arrivato? No mo 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 Non mi appendirete Non mi appendirete Ben direte ragazzi Non vendite bene voi Ma con il tempo impazzirete come lui E inizierete a sparare Beh giusto Giusto No non ce l'ho più di Instagram No? Siamo in 29? No L'ho cancellato Vabbè cazzo Vuole guardare il quattro 29 grazie Purtroppo BS È tardo come ti vi sta parlando ragazzi Pronti? Pronti? Vuoi partire? Sì certo Tanti Attacca il conto Grazie Pinkas Perché purtroppo Ho detto OBS è tardo come padrone Vai a casa E trovi il cane Così che fai? Ti ho canto Così? Diciamo che lo ammazzo Tu non scherzare Che il mio Il mio Il mio Mi aveva mangiato Il telecomando Il telecomando Della televisione Mi aveva mangiato Tre binari Io in sala avevo Il plasco dei trenini Tre binari del treno Quattro alberi E un vagone Giuro Il giorno Non mi sentito mai Ero che balboa Così tanto Sì Cioè ma ben a mente Proprio Quanti anni avete Quanta cazzo Avevo 18 19 Massimo 20 Bastarda Minchia che cazzo Di cane Caga cazzo Poi c'è Il tricomare Valle lcd No Con il display Minchia Bucato Con i denti Proprio eh Io sono Io sono La Diagolano Lo tiene in riga Senza di mesclare Devastro Il povero Un po' Quanto sfiga No Veramente Ti devastro Il buffo Oggi Per pulizionare Che Shanti Shanti Tranquilla E va a mangiare La nonna Michael Lo mangerà Un cazzo Non le farò Niente A pranzo No Dai Bastardo Eh ma Le andrebbe bene Digiuno A Michael Che si è messo Anche a dieta Si è messo Vuole fare Il modello No No Non voglio fare Perdere un po' Di panzerà Un po' Sta crescendo La La potenza Run La le braccia Sollevi 70 kg Ogni giorno Come vuoi Ammo di cose Eh bravo L'attore porno gay Ecco Vuoi fare L'attore porno gay Tu No Si Che ha mai cambiato Minchia piccolo lag No ragazzi Non c'era un lag ragazzi No non c'era un lag No Trappola Trappola Tu hai messo la trappola Qualcun altro L'ha messa Uno No 100 Dai il privatore Che ti ho invidiato L'ho portato il mio contempo Lui ce l'ha sempre Il privato Lui usa le banane No Tre ne mangia E una la usa Ah Ah Finchè diventa marrone Ah Come è andato Buongiorno Geco Buongiorno Come va Geco Tutto bene Geco Bella ragazzi Ti ha voglia Faccio salta anche da Geco Da Pink Stavate ad iscriversi al loro canale Tutto a porno Tutto a bene Tutto a bene Buongiorno Buongiorno Tutto a porno Bene Mi vuole che sia porno Mi vuole che sia porno Siamo porno A 13 Adesso a 31 Ma è obbiesto di male Che è bagato a steca No minchia Ma se sto a fare Live Desolata Non c'è nessuno Devi avvisarmi prima Ciccio La mollavo io E la venivo da te Io stavo un po' per poco No Devi avvisarmi Devi avvisarmi Lasciavo questo E venivo da te Io l'ho fatta così Perché non ho visto nessuno Se tu non mi avvisi ciccio No no Dovevi avvisarmi Te l'ho detto Eh Vabbè Oggi Carina Eh lo so Ma c'è il numero Cazzo Avvisa Minchia Non chiedi le mosine a me Siamo una squadra Come Pinkas Siamo una squadra No Pinkas Eh minchia Gecko Guarda che non avrei capito Come funziona il mio mondo Nel mio mondo Nelle mosine non esistano Se fai parte della squadra Siamo una squadra Se mi sta sul cazzo Mi chiedere le mosine Ma non mi sta sul cazzo Sei simpatico Sei bravo E ci va la collaborazione Cazzo Minchia Ho la tua Ho la tua anima e cuore Per minchione di youtube Non lo do per te Non lo do Ma stai scherzando Il primo a venire qui Donarmi Mettemi in host E tanto Tanto altro No no Fia Ho la tua anima e cuore Per gente di merda Si portavano la merda Tu fa parte della squadra Tu ti devi a Gecko ragazzi Dai dai Il Gecko Andiamo Andiamo Da Gecko Una bella iscrizione Che caso c'ho Mi hanno pizzicato le zanzane Porca puttana Stamattina mi ha dato anche bene Un abbonamento 5 iscritti Per cui Ti dobbiamo passare a Gecko Dai ragazzi Tutti dal Gecko Ascoli Gecko Tu sei ancora Per caso Vediamo un po' Se c'è ancora Scusate ragazzi Un attimino Perfetto Scrivile Pinca Scrivile Bella Pinca Sei un grande Sì In testa Naturalmente Non muore La gente Nobari Oh zio Bella 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 ragazzi Su passiamo A Gecko Un attimino Il Gecko Che fiero Che fiero No come Paolo Che fiero Che fiero Che fiero Eh Facciamo Che fiero Che fiero Che fiero Che fiero Che fiero Oh porco Disco Ciao Argo Però Tu non mi ha Tu gay Non è che Tu non mi ha Tu non mi ha Tu non mi ha Tu non mi ha Che fiero Che fiero Che fiero Non si può sentire Tanto Questo nome Bella ragazzi Bella Bella Tanto noi giochiamo Diamo un supporto Ma anche al Gecko Perché siamo una squadra E così funziona Sì Sì Ho sentito Che fiero Bella Ragazzi Bene Bene Vedi come si fa Così ragazzi Si dà una mano Anche al Visto Che siamo Una squadra Devo giocare Con il Gecko Che Dio Il succo Dio santo Bene ragazzi Bene Lascia tranquilla Lascia tranquilla Minchia Ti ammazzo Giuro Ti ammazzo Perché è tranquilla Lasciommelo in pace Io devo scocciarla No Lasciamelo in pace Tutto un'altra No Perché si fichi Lei si è in pace E poi Ti faccio un regalino Tu la distribui per lei Che cazzo scordi Shanti Oh ma C'è Christian con noi Shanti passa Christian Ma sei nella mia live Ma sei nella mia live Scrivi Christian No non ci credo Christian è con noi Christian è con noi E non ci credo E non ci guardi E non ci scrivi Christian Figliolo mio Ma devo spezzare le braccine Cioè figliolo Ti tiro la minchietta Te la svuoto in un colpo solo Eh No il mio Il mio Christian Non c'è con noi Non mi risponde Argo gay Porco disco Zanzara di merda Michael Ti arriva un pugno Di ocane Porca malosca Eh ciccio Buongiorno Minchia dai Non ti fai sentire Bello Cioè non ci racconti Come andate con la tua ragazza L'altro giorno Hai fatto di nuovo il pompiere E hai fatto solo in bianchino Buongiorno Il nostro mitico Christian Porca malosca Eh cazzo Cioè tu non puoi entrare E non fai E non farti vedere Cazzo Scappa il Messico Chi Christian Ah perché scappa il Messico No no Christian spruzzate fuori eh O in bocca o fuori Non spruzzate mai O in culo Ma vai davanti E non ti fidare Oh c'è no scappa il Messico Oh un giorno Ciao Christian No a Pia Suatemi in Messico Perché ho messo incinta La mia amica Bella Dai Dio povero Un'altra potenza In quell'età Minchia Ha preso il vizio Ah Bella Minchia Grande Bella Christian Sei un mito Poi che vizio di merda Che ha preso Stata ragazzina Io Fossi in te L'insegnare anche A cavalcarti A A Cantare È sempre Carro Carro No no È più comodo ancora Coglione Vai Christian Cavalca Piano piano Ha capito tutto Altro che sto minchia Christian Altro che sto minchia Tutte blute Qua Uno Devo imparare A che cosa Sono schizzinose A che cosa devi imparare Christian Andiamo Oh cic Christian Pink Datemi la mano Porto Scendo un attimo Della nonna Arrivo Se qualche cosa Rispondete voi Se Michael Non risponde Ok Vi lascio la parola A voi Ora che sto arrivando Tu schizzinose Questa Invece la ragazza Lei cavalca Il puledro A te cavalca Ciccio A te È anche bene Che cazzo le sai tu Eh Tu Christian Sei uno Del diavolo Sì Che bel tuo tavolo A Christian Fogli Il forno Bella Zio Fatti cavalcare Chris Fatti cavalcare Non è che Dincura Non c'è Nel senso No 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 Fatti incurare Ti può Eh attento Non Fatti incurare Non c'è Cavalcare Cioè Fatti cavalcare Della tua Amica Io arrivo ragazzi Bella Hopin Cazzo Sto arrivando Arrivati Meno Porto Shanti Arrivo ragazzi Dove vai Flori E ti Shanti Grazie Shanti Sì Oh Siamo Voi Siamo Siamo la Sì, l'ho fatta vedere E la madonna Tu godendo i modi Oddio E poi Non c'è niente di male ma C'erano certe ragazze Che già a vita Piccolissima Fanno già queste cose La mia amica che ha 16 anni Che l'ha già fatta Sarebbe ideale non so A fare queste cose Non so, a 16 anni quindi Ma a 13 anni Fallo con il mio che è 16 Sì Devi avere qualcosa che non vuole in testa Dai Cristiano Siamo Come ce l'ha Per proprio Specificare Perché Dobbiamo anche In un senso Sapere Come questa ragazza Cioè Vogliamo Spiegazioni Anche tu Pinkas Però incoraggiano Cristiano Digli anche tu domande Perché se no Anche tu Ti ho molto Che non ti rompi Anche tu Pinkas Puoi Sapere Vero Pinkas Basta Farsi i tifoti Che vi anche Un po' Alegarti a questo mondo Quindi bisogna Cavalcare E Sede Così che Il più sardo Il più sardo che cosa c'è? Ehm... Ok... 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 e poi confidarti ma poi quante volte fate queste cose non so viene non so il venerdì poi viene il martedino ma io anch'io non ti faccio questo domani perché io non ce la faccio più a giocare sicura si è duro me ne vado in telefono a vivere nelle troie spinta aiutami mi sto annoiando lo so è bruttissimo lo so io fiero cazzo io devo guardare intorno a casa con gli scrivono io non posso per giocare un po' un po' palazzo è Grazie. E però Cristian mi rispondi, forse non va bene. Forse non vuoi parlare in commenta, però quando arriva il signor Piero, parlo ecco lì. Ah no no, è già più lo Cristian, magari è distratto, hai capito? Magari non mi hai visto? Stavo dicendo, ti racconta un po' di questo tuo... a parte le solite cose ma tipo altro che non è sempre ah e beh scusa perché ho il microfono a panculante allora volevo dirti ma questa è la ragazza oltre diciamo le solite cose forse è alto tipo ma ragazza sei fidanzato hai hai delle azioni immagino credo che sei fidanzato con lei no? dopo queste esperienze diciamo così non tu Pinkas Christian non con te oh Pinkas sì ci siamo fidanzati oh anche tu Pinkas con chi tu Pinkas hai innamorato anche tu adesso hai trovato gnocca mi ha tolso 75 di vita ma con quale fucile puoi termine senta è una battuta eh beh scusa è vero essendo brutto tu Pinkas non è che c'è gente che ti vuole capito? scherzo scherzo finta ovviamente notizia importante Piero a Christian gliel'ha fatta vedere quindi è già avanti Christian scappa già più di te quello ci siamo da essere amici hai un po' tanto essere fidanzato e tutte le robe non è che c'hai una mica cioè ti trombi l'amica no ti trombi eh Pinkas secondo me tu hai tempo ma non lo sprechi bene cioè tu in cosa lo sprechi il tuo tempo? farti pipotti? ieri ero in piscina con lei ah bello Pinkas e che cosa avete fatto? vabbè avete nuotato? beh immagino sì in piscina cazzo ho fatto il fermo lì a sbagliare no ti muovo in piscina quindi immagino che avete nuotato poi immagino che dopo siete pronti a a a a a immagino l'aperitivo la diretta abbiamo fatto il bambino mi vuoto in piscina e posso fare il bambino e poi cosa avete fatto? mangiato immagino tu dopo mangi siamo tutti i giorni insieme e di notte cosa avete fatto? la notte si trombo immagino no? come il solito fare perché tu non trompi di giorno tu trompi di notte più che la notte e boh no che ne so di solito si tromba di notte si tromba di notte perché il giorno non c'è da fare quindi con calma si tromba di notte vieno io vieni qua che devi trombare con Pincas che Pincas ha bisogno di donne e lui è qua proprio per te poi dopo ho preso il sole no di notte siamo a casa nostra quindi potete di giorno magari potresti anche magari invitarla un giorno di notte potete un diciamo party un notte party diciamo così tu Pincas con con lei ti hai fatto di notte o di giorno ma secondo te non capisci tu hai detto che tu eri in piscina con lei avete fatto il bali siamo tutti siete stati tutti i giorni insieme poi in piscina avete preso il sole io ero a Milano ma lo so che era a Milano ma io ma secondo te lo so feo lo so finca lo so benissimo era tutta una finta lo so c'erano gli MMS giganti non mi hai spedito neanche uno gli MMS giganti devi vergognarti non mi hai spedito gli MMS giganti sei uno zio cattivo qua adesso e se vado a te e vado in piscina e prendo il so allora non credo che nuoti cioè non credo che abbia lì in sole come una donna ciao ragazzi non posso correggiare no ragazzi vado a cagare poi dopo torno non mi hai coletti è stato un leggerissimo l'aglio si l'ho capito finché a porto dovessi provare una donna sarsi più felice così veramente ricca così anzi se trovi vecchia non so per morire oggi ho visto che una bella giornata vado in piscina bravo pinkas bravo christian anche io vorrei andare in piscina perché sarebbe una bella giornata perché da mio amico provo a convincere mia nonna non sarebbe una brutta si ammazza intanto beh non sarebbero tutti i tempi anch'io mi sa che vado e vi dico e volete venire in piscina a due o tre amici allora eccoci qua ragazzi bella cagata oggi ho visto quella bella giornata vado in piscina tanto c'è caldo che sto a fare a casa no fai bene qua non è bellissimo eh fa caldo ma c'è le nuvole strane non mi piace però ho detto che va in piscina perché io sono una ventina che io trovo le pare di stare a casa ma quest'anno va così chi c'è qualcuno mi sa chi vuole venire in piscina chi vuole eh? me ne hai soldi? no no mi hai scelto in tre ma non hai scelto in piscina perché questa no va così massimo novembre avrò la macchina spero avrò carellino e vaffanculo la domenica o il sabato me lo vado in moto fanculo a tutti si minchia io la fortuna che le fanno pagare ma vabbè no sai cos'è che so ci do andare lo stipendio capito per cui siamo un po' al verde però se puoi andare sfruttare le fortune tu ciccio vai freddo un cazzo ma la tua piscina cosa è solo piscina o anche scivoli ci sono dove vai tu eh zitto pinca zitto adesso voglio di conservare il soldino come magari come cerco di mettere da parte e non toccarli perché se no non posso fare solo piscina dove vado io come una ok ok ci sono quelle che sono qua in questo paese nel paese a fianco dove c'è Luca ma sono belli ti rilassi un po' almeno sta che la mente dalla casa io sono veramente fuori dai gonchi sto andando una donna fuori di testa voglio sull'altra ragazza dopo mi sto sono stufo ma attendiamo ragazzi attendiamo attendiamo com'è com'è ah ok ok no vabbè dovresti andare con vaduto sullo scivolo senti fidi ti poteri con me ti porta a voglia dello scivolo e mai sono strassente ma sai notare Christian tu riesce a notare provano tutti di stronzi ah no vabbè devi andare con qualcuno che è più stronzi di stronzi che ti porta e si può qualcosa non beh ah ok 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 per quello no vabbè se ne con me ti portavo io lo scivolo ti mettevo qua via io devo provare un po' io lo scivolo ci divertevamo un pochettino so che sei lontano ma poi si arrivava uno stronzo lo affogavamo perché ce ne frega a noi qua andavo ancora con la mia ex moglie con il mio figlio andavamo scivolo a piccolino anche lui sa portare bene lo mettiamo qua cioè sai e aveva le gambe lo costituì con la mano e via ma a stecca ce lo diamo in casa nessuno quando arrivano di girare poco poco male si le è perché avevano i coglioni eh sì quello sì questo è quello che ti aiuta sicuramente è quello che ho fatto un amico che mai ti aiuta allora potresti provarlo naturalmente non ti fa arrivare qualche calcio di una schiena e guardate mi chiedo che in base alle piscine che vanno e al bagnino che c'è non rispettano le come dice le regole capito qua in piscina finché non uscire dalla piscina il bagnino non faceva scendere l'altro lo scivolo no no mai no no eh beh più di bulli da smontare quelli quei minchioni da smontare da smontare hanno rotto i coglioni hanno rotto cazzo fai la gente di merda proprio una scuola e così si fa bella bra bella zio così devi spaccarlo cri che cazzo ma che cazzo che sono di essere così devi smontare gente di merda così cazzo e l'ha fatto il bullo con lui l'ha smontato vabbè mi ha dato 10 punti in testa non importa esperienza si chiama quello esperienza c'è 10 punti in testa eh si è fatto male ma ti piace c'è più piace eh si chiama esperienza Cristian c'è una volta 5 a testa e lo atterri prima eh no quanti siamo aspettatori ragazzi che io sono in ritardo con le cose quanti ne abbiamo dipende da loro sempre conto che lo spiscono mai domani un martedì capito che cazzo spiscono oggi spiscono oggi spiscono oggi oh te lo ammettono loro domani mattina arriva il corriere bellice tu si lo mettono loro lo mettono mattina arriva il corriere arriva dovevo stare meglio di me avrò dato minimo 10 mila euro di roba in tre anni tra me e il mio club ordinevamo un minimo stimato 4% di roba ok e perché chi voleva fucile chi voleva quello che voleva quello là che voleva là facevi ordini grandi no mica lo sto scherzando eravamo in 35 ordinare e poi e poi e poi e poi arriva di tu e volevi fucile e mi davi 150 euro arrivava lui voleva il motore e mi dava quello capito il motore del fucile e in poca parola mi sono mutato dalle scale e l'ho spinto la differenza è che ho sbattuto la testa contro il spigolo ahhh capito guffo pure questa dicama guffo se si è buttato a modi di di pazzo ahhh ahhh con la carrozzeria mi immagino guarda se è fuori di testa bucchia grande grande si è fuori di testa guarda le mie qua c'è oh era nervoso l'ha fatto adesso non mi tocca più è un mio amico beh ha capito che non si scherza come ci tu non c'è la compassione occhio non non voglio fare i furbetti non c'è compassione ragazzi così si fa eh che molti chi si dice eh molti mi trattano bene perché sono in carrozzina anche per compassione che cazzo è un mongolo è un scemo cazzo è un vegetale non è che un vegetale siamo persone umane siamo testa di cazzo fatto bene Cristian minchia massimo rispetto per te bella distruggi tutti da gente cazzo ti insegno un trucchetto usalo delicatamente guarda l'ampro dei coglioni anche se sei seduto no e non puoi apri la mano pianti la città nel mento vedi che in tre secondi ho teli per terra fighati così tang se non basta uno fai tre volte non ti fai male lui in tre secondi è per terra e non buttarti a mo' di di kamikaze cazzo cazzo sei no mi kamikaze cazzo è un pazzo beh tu ti domani tu ti rendi sicuro l'altro amico anche l'altro amico spada ha assaggiato la potenza di Cristian minchia allora il tuo amico la tua potenza la tua amica il tuo idrante la tua ci manca il tuo culo è un bel pisello sono qua di giù no no non fuori in qua Cristian non sapevo che da fare però l'ho mandato a terra fatto bene guarda quando sei vicino che fanno i bulletti e magari si sta vicino a te no vicino tu guardali negli occhi e due colpi con questo nel mento tranquillo zio che va giù poi calma cioè non mi insegna fare dopo un po' sclearia calma calma fino a pagina 1 non è i colpi i suoi si sappi che più in alto ha sempre la vittoria hai chiamato un moschino nell'occhio prima in bici cazzo ho avuto un incidente è morto il moschino si con me è morto però stava suonando facendo gli abbaglianti è morto ma che cazzo i moschini dove cazzo arrivano dio santo togli le mani ma qua le scale poi avrà fatto minimo una rampa si è fatto che cazzo di cioè ma guarda questi moschini che cazzo arrivano ho avuto i coglioni eh dai questo voglio cercare di vincere un po' eh dai si stavo andando per divertirmi a filmar con no ma ma no e fare cose serie che ti da dai ai 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 frate mi immaginavo questo guarda mamma come vola adesso in un ciclo se ne prima stavo nel campetto spera ne fa un'altra di di questa su potenza mamma non perdo tempo ce la stendo gli altri finchia ragazzi ragazzi dai ragazzi chi chi ha amazon prime e non ha mai dato un abbonamento a nessuno può metterlo qui gratuitamente per un mese non spendete un euro non spendete un euro big money dai ragazzi tutto grazie su questo canale cuore cino iscrizione con amazon prime dal pc naturalmente dal pc più facile dal cielo è un po' più un casino da mobile per cui abbonate si un po' più un caos eh non lo so per quale motivo più un po' particolare per cui fatevi l'abbonamento gratuito sul mio cianale c'è la marijuana nel mobile vai nel mobile fuori girati no ci pensi marijuana su fortnite c'è la ganja la bamba sono gay ma mi è sparito il pinkas cristian so che c'è ma il pinkas mi è sparito dove è andato dove è il pinkas dove è andato il pinkas che mi è sparito no pinkas il pinkas il pinkas uno ce n'è il no il pinkas il pinkas tutti morti ragazzi sai facciamo cosa qua ragazzi ah io ci sono sto vedendo ah ok 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 ma mi sa ragazzi che stacchiamo qui la live fra un po' finita questa partita dai michael poi ci si becca alle 14 chi vuole venire naturalmente e lì tireremo fino alle 6 4 ore facciamo se vi va bene ragazzi non posso fare la cosa facciamo dalle 14 alle 18 4 ore se ce la facciamo si ce la facciamo si dai dai chissi andò vi finisce la partita michael e stacchiamo la live se non vai in piscina chissi vuoi passare sai che sei benvenuto se no buona piscina ciccio eh è in piscina anche tu gioco io se non sei tu gioco io dove alcuni ragazzi come se posso andare liberamente vediamo come marco fa questo game ah beh sicuramente vedo un po' la ragazza non viene cristian eh appunto ci fa i niente i piscini insieme vanno coglione i piscini sottomarini bah ti fai cosi i i i i bocchini i sottomarini ah ok 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 eh ti conviene ti conviene chiedele via sì ci mi lasso un po' ah lo sai ancora mangia la pranzia sono tranquillo guarda 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 è quali è via è via che succede qui non me la fermo è mai uscito no 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 per cui oggi chi c'è iscritto nuovo c'è il nuovo cristian questo rumore nome su whatsapp esetto nuovo arriva un bimbo che va a come mai ci sono venuto segnati in giusto non capisco perché non tutti scrivono perché molti vengono e guardano tipo christian lo smosso adesso io a parlare sennò era da un'ora e mezza che mi guardava e non e non parlava non è colpa mia ragazzi io non posso obbligarti a parlare cioè chi parla chi vuole parlare parla che non vuole parlare non parlano sto poi c'è l'inglese americani che è mai non questo vedo però guardano il gioco non so comunque ragazzi io non so che dire poi non so se tutti sei già un iscritto non mi ricordo se non si è iscritto naturalmente non chiedevi a me il perché io chiacquero chi mi parla rispondo chi non mi parla è bene anche pink si chi parla noi interagiamo molte volte entrano male di 30 ma ne abbiamo tre giocando qua per cui non parlerà di certo oggi non ce ne nessuno adesso c'è la società 19 io vedo e poi non so ragazzi non posso perché a parlare se mi vuoi guardare mi senti chiacchierare via ogni tanto qualcuno salta fuori a parlare beh adesso tu sei entrato stavi guardando perché non è venuto prima ma chi vuole chi vuole si scrive ragazzi non so che dire no no la mia critica allora tranquilla ma non è che la mia non mi sto arrabbiando e la voce di merda che io abbi pazienza no ma neanche lo capisco guarda sono arrivata bene 40 40 in live cazzo ed è un bot quello no 40 in live cazzo e parlavamo in 5 e dico ma hai vergogno di parlare ma almeno dimmi ciao dimmi io non cioè io sono uno di quelli anche che tipo io entro in live dico ciao e poi non scrivo più ma adesso a guardarti rimango lì a guardarti tranquillo che non non mi sto offendendo e che non mi non mi capacito neanche io perché cazzo lo scrivono dio santo cioè dimmi perché non scrivi cazzo scrivimi dio santo e vabbè o guarda un esempio stamattina ho avuto 1 2 3 4 5 iscritti un un abbonamento o uno che ha detto ciao 1 1 nessuno 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 finca ma che cazzo ti sei iscritto ti sto ringraziando mi hai dato un abbonamento ti sto ringraziando allora si no ciao come fa o niente niente minchia fantasmi cazzo e li ho qua e c'è anche l'abbonamento l'ho ricevuto due ore fa grazie minchia se vuoi giocare con noi non mi caga nessuno a parlare ragazzi non mi caga nessuno ah se vuoi giocare con noi se hai pc o xbox se sei benvenuto eh se ci sei se non sei non è messo cuoricino se benvenuto cuoricino eh se sei un amazon prime e non hai dato un abbonamento al nostro canale lo puoi fare gratis ecco tante cose io parlo io parlo chi parla bene che non parto zitto ragazzi non so che dire io io ragazzi non so che dire magari cristian magari magari fossi a te se sono puntuali io sette e mezza devo partire nell'auristano fa il prelievo e me ne vado e quello ah ma io ti porto in giro volentieri eh lo stessi anche a casa con me senza entrare su un problema è proprio tre stili con me tranquillo se mai sei la tua io vieni a giocare con me e vamo in giro a divertirci bella Zlatan bella che ti sei iscritto grande ciccio bella zio bella grazie di cuore grazie 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 adesso dammi una mano anche tu a scrivere riempiamo sta chat di merda scrivi scrivete bella zio ti ringrazio di cuore vedi tu hai scritto e ti sei iscritto poi adesso non so se ci sei ancora con me online dicevo tu io vi ho visto che sei un prime se non hai mai dato un abbonamento a nessuno streamer tu qua puoi farlo gratuitamente per un mese ok non paghi la cippa solo perché sei prime qua tu puoi abbonarti al mio canale vedi ecco così la gente ci sono un momento guidando no che cazzo fai sei fuori sei fuori guidando ascolta se mi senti allora se hai pc o giovanni mercati ma buongiorno giovanni bella zio bella benvenuto se hai xbox o pc zlata e vuoi giocare con noi dalle 14 siamo di nuovo in live se vuoi giocare ti diamo il nick e vieni con noi tranquillo che hai dei cerchi vieni qua anche tu giovanni bella zio se non sei iscritto non mi ricordo abbi pazienza sono vecchi rincoglionito e non mi ricordo iscriviti un bel cuoricino e se vuoi giocare con noi xbox o pc 10 certo zio vieni con noi giochi con noi e continuiamo la live se ho gente che comunque interagisce vuoi giocare io non la stacco ragazzi a cosa di mangiare in live e giocare tutto il giorno è l'ho fatto pinkas lo fa dodici ore di live su youtube le ho fatte mangiando via dicendo ragazzi e non ho problemi farlo qua c'è andavo a cagare ma non il live qua dietro che è in eccesso c'è il gioco c'ho il bagno ragazzi e c'ho il bagno è per cui ragazzi io non chiedo io ho messo il link delle donazioni ma chi vuole il libro ve lo chiedo però siete dei prime e non avete arrivato max ragazzi e non avete mai l'abbonamento è gratuito per 30 giorni a voi non mi costa una malamata minchia così non dovete dare i vostri soldi per donare a me non date niente bella giovanni bella zio bella bro let's go bella giovanni bella così mi piacete vedi zlata vedi che succede si è arrivato tu e dato questa botta di vita dove abbiamo abbiamo nuovi iscritti gente che scrive e buongiorno a tutti e buona domenica in questa live usa la bottiglia no no vado qui pinkas era un poio di metri ce la faccio ancora non capirò non vi dirò mai quando mi passerà la voce bassa perché a forza di urlare bro mi ha invitato allora mi ha invitato joe dark joe joe dark joe a bella zio joe bella bella joe che qua si chiama ovel vero ovel su xbox bella bella o ringrazio lo ringrazio lo veramente è stato grandissimo ha giocato con noi ieri minchia sa giocare porco disco è bravo se lo senti e se anche tu vuoi giocare con noi basta che pg il bottone di xbox ci dà il tuo nick e giochi o se è pc giochi da pc nessun problema ciao christian buon pranzo ci vediamo se vai in piscina buona piscina se noi ci mettiamo dopo ciao zio bella e non far toccare il tuo pisellino ciao grande impostazioni è un minchione ragazzi avete pazienza è un minchione ti arriva un punto che ti stuco a te tua mamma pure ragazzo bella questa è una bella domenica adesso vi dirò questa domenica siamo due quattro sei sette follower solo questa mattina minchia ragazzi vi ringrazio di cuore let's go pincas grazie adesso mi fai pazzo pincas pazzo bella zio bella ragazzi bella mi piace voglio staccare la live la stacco comunque c'è la christian pincas gli altri non scrivevano ragazzi ne faccio una io sono una bobbetta pazienza non sono capace e non lo sono mai perché purtroppo non mi fanno giocare e minchia uno dei vostri papo di dio santo a gorano a una pagina facebook si bella ragazzi anche instagram anche basta anche porna b anche il form bella zio bella ragazzi su svegliamoci domenica mattina per me è un giorno come un altro ragazzi è uno come un altro bella zio bella vai picas che fa il punto sclamativo instagram oppure punto sclamativo con mani avrete i comandi per vedere tutte le informazioni del cianale dove andiamo ragazzi andiamo a prodo ragazzi dai zio minchia montagnone minchia guarda ma che cazzo facciamo lassù a crea che mi siamo più fattibile ragazzi non ridete del nabbo che c'è in me dove cazzo va il giallo dio cane c'è non ci credo veramente qua coglione devi venire madonna santo va montagnone quella merda non lo so che scuola nel cazzo che madonna trottola scuola ragazzi se mi scavo qualche bestemmia ma dio santissimo benedetto cioè non è possibile ma dov'è il mio amico ragazzi guarda quella canzone morirai tanto so che morirò a rodugo che nel culo lo prenderò beh sei un minchione dio santo grazie a tutti porca troia ma vaffanculo dio santo dov'è la mia squadra cazzo ne atterro due porca puttana mamma puttana bastardo ma squadra di merda dio santo va c'è veramente vai a tirare le foglie di pizza va intanto che cazzo mangi? ma la cosa non la faccio chi è che mi c'è la cosa della notte ragazzi oh io ragazzi ragazzi cosa facete voi? voi che facete? ciao ciao ormai quello lì è andato è andato non seguitelo più perché la posiamo tutta strada cioè non è un amico di merda king of the pound ma che non ha nessuno che gioca a pg da solo andiamo se strippi viene se arriva strippi con strippi giochi bene ragazzi dai su su un cuore ciro non costa nulla e come dice sempre il vecchio Piero se siete amazon prime non avete dato un abbonamento a nessuno se avete piacere darlo qui in questo canale di merda ne saremo grati per voi è tutto gratis treppi mi senti? dai dai Giovanni dai dai Gio che ti aspetto no la partita controllo scarica Michael dai Gio mi senti mi senti oh auguri ciccio dai che me ne esco auguri è bello dai che me ne esco no no vi abbandono bastardi vi abbandono gioco a te serie io dai Gio ti aspettiamo allora si si ti invito subito sto uscendo ti invito volentieri oh uguale con compiti stripy Michael che ti voglio? ma di che figurati allora invita al gioco ah merda no PS4 che poi perché non si sistema in questi casi di cosplay con la PS4 no non devi scusarti tu devo scusare il mio con te perché la Sony bastarda non sistema le cose uff che due cose eh e io vai eh per forza bella bella zio eccoci qua tranquillo Gio ma mi dispiace perché voglio raccontare insomma basta questi stripy inviti basta ciò voglio fare butta figura ragazzi perché sono sono il ragazzo del butta figura cazzo è entrato se che ha mandato un po' di inviti ha mandato dai ragazzi su ok basta dai se vuole andare da queste parti forse mi sono bagate gli inviti anche ok andiamoci andiamo di là non entrare come sei dentro sei dentro ma sei dentro con me sei ti vedo qua online ti vedo con far buttarti ci sei ci sei oh si è bagato il colpo tutto che manda gioca 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 avrò meno 45 inviti guarda chi è chi è questa della notte che mi cerca dopo lo sento giochiamo ma ci sono eh strippy mi sa che siamo insieme boschetto lo cazzo è il boschetto no vai 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 lì vai lì tranquillo ormai sono basso non ce la faccio sono basso strippy vai sto arrivando guardando qua sono caduto basso arrivo ciccio ragazzi facciamo gli auguri a strippy il suo compleanno oggi bella zio arrivo se mi senti arrivo non c'è nessuno che mi fa stuglio adesso lutta lutta tutto che poi ragazzi dai bella domenica tutti in live con a gol è bella ragazzi tutti qua non perci le palle è bella siamo oh non c'è nessuno siamo anche in safe quindi al culo anche la bassa grazie ci vediamo oggi ok buon pranzo chi deve andare ragazzi ci vediamo dopo ciao sbincas ciao bello ma un pompo me lo dai per favore un cazzo di pompo non mi dai guarda la droga finchia mega loot allora andiamo queste cose qua guarda mettiamo qua mettiamolo ormai non mi arrivo cosa c'è qua prendiamolo ma anche se non sono bravo a usarlo allora bella lui non ha ancora niente bella ragazzi facciamo il mondo oh questo che lo voglio ragazzi guarda tutti dove voglio guarda strippi lì strippi dove sei devo stare lì dentro su xbox mi chiamo agorano06 oppure crocodile tager perché gioca sia mio figlio che lui ok no lui è visto 4 su epic crocodino basso dove cazzo 6 ciccio che devo arriva 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 devo darti cosa dove sei strippi devo darti perché joe me l'ha chiesto allora ieri giocato mio figlio cioè agorano06 e oppure vedi oggi abbiamo la xbox con crocodile tager per cui ragazzi abbiamo due xbox perché una il mio figlio è una di michael quello dei ragazzi che vive ragazzi che vive qua allora torniamo dunque il nome con cui parlava alla fine che è rimasto a giocare il tuo amico joe è agorano06 luca mio figlio però oggi non c'è perché è al mare con la madre e allora dovevo giocare con me qua me e michael qua facciamo il materiale ah questo a posto questo a posto dov'è pg strippi di qua andiamo a visitare qua ma ci sarà già lui un po' Allora Andiamo a Qua Ho visitato forse un po' ragazzi No Non mi visiti questo Ma come fai Io non vi danno questo Allora Poi c'è un problema Allora Anzi lui mettiamolo qua Vediamolo qua Chi mi ha sparato? Ah ma fin d'ora Ho toglie a posto del M4 Anzi Vedete che cazzo fai Ma Mi trovo bene con L'M4 Aspetta allora Lo scrivo subito Bello Lo scrivo subito Allora Uno è questo E l'altro E l'altro è Crocodile Teacher Dile Teacher Eccoli qua Adesso andiamo in save ragazzo Questa sono i due nomi Che devi cercare Dile di trovare tutti e due Al tuo amico Eh A Joe Perché come non c'è uno C'è l'altro Poi li trovate entrambi assieme Bella Bella E mo E mo Questa non può prenderla Colpi C'è chi no? Dove la bro? E lo passi a Joe Così Allora Lui è al fuoco Se è tardo a legge Ragazzi Avete pazienza Un attimino Che Ma è come lo gioco Non esco a concentrarmi Ok Qua non è l'ultimo Che strano Mucho strano Come mai? E a cena In Amo Amo Cazzo va Ah arrivo zio Arrivo No queste non le vuole le bombe Blu pompa No non ce l'ho a blu pompa Ho solo questo qua Non parlo il senso E perché? Se mi senti ho il FAMAS L'M4 E le cose basta E questo pompa che vedi Tanto davo volentieri La forza di fronte a noi Così blu Ah su guarda guarda Di blu cos'è? Un pompa forse Sì è il pompa Tipo il Il multiplo blu Questo volevi? Volevi questo? Vuoi questo? Sì Lo vuoi tu? Ma non c'è Treppe se lo vuoi dimmelo Oh oh Gente 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 Strippi Gente Bella zio Vai vai Prendi tutto Vai Merda Ho sguardo il tasto Strippi cazzo Bella Strippi Bella Vai tranquillo Vai tranquillo Eh ho sguardo il tasto Cazzo Scusate ragazzi Sono un nabo Vovete pazienza Strippi Un pro con fronte a me Minchia Bella bella Brava Strippi Scusami Vuoi dire Che per un po' di evoluzione Va Sei più bravo Per favore Vi metto il pro Ragazzi Avete pazienza Vieni pro Dai Vieni dai 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 Che strippi ti vuole Moriti Eh l'ho visto No no Grandissimo L'ho visto Oh Quante lotta Che strippi ti vuole Vieni C'erano un po' di persone C'erano Bella bella Bravo bravo Perché non parla strippi Bip Adesso ti mando Sì 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 Aspetta Va bene C'è ragazzi Proprio un nabo di merda Dai ragazzi Facciamo Ah ok Ciao strippi Ciao bello Dai ragazzi Mi sa che andiamo anche noi Finisci tu anche Vuoi fare una ancora Dai ne fa una a lui Bella Ciao ciccio Buon compleanno Ancora auguri Auguri E' bello Sì Sì Dai ragazzi Facciamo l'ultima E poi andiamo A mangiare Ok Bro ma Gio dice che non riesce A scrivere il tuo nome Perché Allora Uno è Allora Gio è in In xbox Uno è agorano 06 Semplicemente Ok Questo è uno Uno Ed è mio figlio Che non c'è oggi L'altro è lui È crocco Dile Tiger Su xbox Su Se per caso Lo cercate Su Epic È crocco Trattino Basso Ita Ok Questi sono Da xbox I primi due Da epic Il terzo Ma Gio Se non sbaglio È È oval È oval Gio è coso È xbox È Il coniglio Il coniglio Va Tieni fuori Tu non vuoi pizza Guarda Guarda Anch'io Quello Ficca Guarda Tu non Tu ficca Perché la mangiare Bu Io voglio Non mangiare Cosa la romanzo Non mangiare Non mangiare Che ragazzo Puoi Non mangiare Non Fammi Un 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 Sì, dai! Sì, dai! Guarda! Giovanni ha scritto, no? Bevitolo, no? Bastardo che sei! Non sono bastardo, che ciccio! Ah, il grande ciccio! Bella! Ascolta, è venuto... È venuto perché Sto giocando e... Ti sento? Sì, sì! Bella, Gio! No, se c'è Gio... Deve giocare a Gio? Non lo so! Il Gio deve giocare tu! Non parli? Sì! È staccato il Gio sicuramente! Sì! Certo! Allora, Bastrick! Puoi partecipare... Non perché lo vogliamo noi! Solo con Xbox e PC! Se hai questo, certo che puoi partecipare! Se hai anche voglia di iscriverti al canale, ci fai un grande piacere! Ma puoi partecipare tranquillamente! Sì, è bello! PC! Certo zio! Bella Buzz! Bella zio! Allora... Buzz! Vai su... Su Epic! Cerca Croco, trattino a basso, Ita! Non mi sento! Ti cerchi! Ci cerchi qua! Di qua lo sento! Di qua! Ci senti tu? Non senti a noi! Non sento! Oh, va! Ci senti? Gio, ci senti? Ehm... Per che cosa? Come si stacchi qualcosa lì? Per le batterie! Per le batterie! Ehm... Non senti! Ehm... Ehm... Per il gioco! Non senti! Un altro! Sì! Ehm... 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 Che... Non posso rispondere adesso! Arriva ragazzi, un attimino arriviamo eh! Non posso rispondere ovale! Vabbè, ecce la parte, ecce la parte, ecce la parte. Esce la parte. Esce la parte, ecce la parte. Siamo qua, esce! Ragazzi un attimo eh! Rimanete fermi un attimo! Ehm... Ehm... Usa il cavo anche! Così non... Se si stacca il cavo è insame la batteria! Prova un po'. Attimo ragazzi! Piccolo problema tecnica! prova si si ok adesso la guardiamo dopo si allora adesso usciamo aspetta sono già dei roba dai no sì sì ma ti vedo ragazzi e no abbandona il gruppo vai lì sul coso è stata la partita accetta sua amicizia accetta sei sereno ma se devo entrare l'efficio dopo no vai amicizia accettala non è nulla ma come ti chiami no no a croco ita croco datino basso vita come ti chiami tu basso che mai ultimo ci chiamo noi scrivilo qua con io tu 18 come ti chiami basso ci sta per un pochettino che poi se c'è jo ancora online dei due secondi che riavviamo allora scrivi sebb 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 se bologna bologna torino roma italia cazzo k h iroia iro ok vai perfetto inviata due secondi che riavviamo l'xbox e ci siamo sempre in live vai anche jo se c'è jo un attimino serve trick iro trick è un mossa eroe sab sebastiano l'eroe di trick secondo le ragazze che riavviamo entriamo a giocare di nuovo insieme perché purtroppo il minchione di di signorino non si è messo anche le batterie a caricare no vai entra adesso invita pg strippi invitiamo subito coso pg strippi oh scusa pg strippi invita jo volevo staccare la live ma noto che sta salendo gli spettatori e non la stacchiamo quindi mangiamo anche in live ma magari mangeremo anche in live la pizza ci portiamo pizza in live ragazzi tutti spanchi facciamo veramente l'acqua mettiamo la pizza oval vai bella zio mi senti adesso io mi senti senti stai in connessione stai in connexion please poi invitiamo a seb eeeh ma quindi devo uscire dal gruppo io stiamo un po' e perchè col best trick eeeh beh adesso puoi invitala un pochettino si si però ah scuota un attimino però dobbiamo anche andare a mettere dal gruppo perchè allora che cosa qua qua non va dai ecco bene si baga questo si baga tanto maico sta partendo e parto anche io allora invita subito ecco seb bella zio eeeh ciccio e ciccio vai bella seb bella bella zio se hai il gruppo puoi parlare con lui senti a lui se non si baga di nuovo ecco ok oh mi senti io no ma perchè è il problema del nuovo aggiornamento che ho fatto lo sai ok ci siamo ecco qua il nostro seb trick hero non è che non vi più ho finito seconda e poi c'è via se non fai più non lo so perché se vuole sapere eeeh eh prova così prova eh ma non fa non so non so non parlare prova andare a oval e beh invita anche seb non posso da pc si sì sì certo 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 sei sei non posso parlare con lui vai partito pronto bella seb cioè che ma il seb cerca di tenerti la labia aperta se così senti un punto dall'ultimo aggiornamento ha problemi con xbox Secondo me dobbiamo buttarla Vai Serbio Se ci senti palla No Porco dio Vai c'è di gioco prova Prova che trovo Prova prova Minchietta Mosca Serbio ci senti Non è bruciata Anche io spero non è bruciata Cazzo Maggiate di gioco Di gruppo nuovo Vai Anche lui è andato Allora vi siete Nella partita No no Vai lì Vai Vai Quando parte vi sentite No Mi dà la linea Ti può uscire guarda Dici Mi scambata su cazzo Di forte L'hai da tutti i coglioni Roar Roar Guarda che è lento Dai Sono dentro Loro Invitali Perché ti ha potuto uscire Perché ti ha potuto uscire Sì Uscite 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 Oh ieri ragazzi Anche Obole è trasciato Ma che col trucco Non so cosa accade Questa cosa Come vi sentite no Parla Sì Sei in certi di gioco tu Cambio Lui è in gruppo Vai 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 Parla Devo sentire Pure a sé Io no Ecco a me se hai problemi con l'Xbox Oggi sai Sì ci sono Sì Per sempre Magari se ci sente Guarda la live No hai problemi con l'Xbox tu Michael Tutti hanno problemi allora No io non riesco Non riesco a entrare in chat di gioco Ho provato anche a staccare E attaccare le cuffie Sì no no Ma è un problema proprio dell'Xbox L'ultimo aggiornamento Con i PC eh È proprio Questa abbastanza Che hanno fatto Wow Non è per entrare Minchia Dai ragazzi Fateci giocare Dai su Di nuovo Non gioco più io Non stacco Perché fa così Tu stai entrando Joe Che stai entrando Joe Che stai entrando Joe Non lo so Andiamo a dire Sono dentro raga Voi non è ancora No Se ne seguite qualcosa con la live Non siete dentro No Non Che tanto io La live È il gioco Che devi entrare Eh ma Cioè A me personalmente Non è mai capitato Sì a noi Ho risposto così Non è mai capitato Non è mai capitato Non è mai capitato